Oggi siamo qui a manifestare per i diritti dei migranti che nessuno più debba rischiare la vita per partire in barca nel Mediterraneo, che nessuno più debba rischiare la vita per attraversare un deserto con un mezzo di fortuna, che nessuno più debba attraversare la ruota balcanica a piedi, al freddo, che nessuno più debba essere respinto davanti a un confine. Bene, o tutti abbiamo il diritto di viaggiare o non ce l'ha nessuno.